secondo trofeo stagionale per Simone Zaghi che è anche in lotta per lo scudetto quindi si va verso il triplete nazionale ed è successo di tutto si social veramente sfrecceranno le polemiche arbitrali la Monviola veramente di tutto anche perché sono stati concessi due calci di rigore all'Inter uno dubbio l'ondato alla Juventus e comunque quelli dell'Inter non è che siano stati così poi netti quindi succederà il pandemonio ma gli interisti si goderanno sicuramente questa vittoria della Supercoppa Italiana e non a caso vincere la Supercoppa Italiana contro la Juventus quest'oggi vincono la finale della Coppa Italia quindi doppio trofeo tutti e due contro la Juventus quindi è legge ormai e quest'anno la Juventus non ha mai vinto contro l'Inter in campionato perde il merce di ritorno all'Allianzio Stadium all'andata fino in parità al San Siro quindi la bestia nera vabbè derby d'Italia clamoroso tensione incredibile dalle panchine e soprattutto aspetta dagli spalti perché la tifoseria dell'Inter oggi è stata strepitosa quelli della Juventus non si sentivano minimamente all'Olimpico e nonostante tutto comunque c'erano probabilmente parità di biglietti venduti perché comunque lo stadio era diviso tra nord e distinti nord che erano spettati all'Inter la Juventus si è presa ai distinti sud della curva sud e parte ovviamente di Montenari e Tevere che si sono divisi e l'Inter ha alzato la voce per tutto il match ed è stata un'atmosfera incredibile quelli della Juventus si sono sentiti realmente poco ovviamente non è una critica cioè che cazzo me ne frega a me allora la sblocca Barella dopo sei minuti questo poteva già condizionare il match gol bello tira giro pazzesco grandissima palla per lui Perin non la vede neanche davanti ci sono troppi difensori giocatori e quindi palla che si infila angolata quasi sotto l'incrocio 0 a 1 per l'Inter che sblocca la partita nei primi minuti soprattutto nei primi 20 l'Inter domina centrocampo rispetto alla Juventus con la qualità di Brozovic Barella ma poi la Juve cioè secondo me fa un'ottima partita dal 25esimo del primo tempo in poi veramente tanta roba tanta tanta roba andiamo un attimo però non credo che infatti 120esimo minuto ora si godranno la festa la Juventus gioca gioca con intensità miracolo di Andanovic nel primo tempo su Vlaovic che aveva incrociato con la mano una grandissimo riflesso e poi nel secondo tempo continua l'attacco della Juventus che inizia bene l'approccio ottimale tanta roba l'intensità segna Alessandro molto molto fortunato Vlaovic due volte poi palla che termina lì deviazione Andanovic non resiste e fa il gol dell'1 a 1 e poi succede il pandemonio perché la Juventus la ribalta 2 a 1 Vlaovic in campo aperto tutto solo servito alla grande con un lancio incredibile se non sbaglio di Dybala e poi lui se ne va calcio a Dostrandanovic se ne sposta poi di nuovo calcio ribadisce in gol 2 a 1 per la Juventus esplode esplode l'Olimpico a favore dei bianconeri che in due minuti ne fanno due e sembrano essersi portare la partita a casa secondo tempo clamoroso Inter che riesce poi a prendere campo a prendersi la partita tra le braccia e quindi giocare anche meglio della Juve nei minuti finali hanno preso con tanta voglia il pareggio calcio di rigore cialano io non lo so se effettivamente Neto perché Neto non lo era cross dentro Perisic se la sponda se la sposta poi Delecht c'è stato un incrocio di gambe clamoroso con Bonucci però sembra essertato Vallo di Delecht che commette due calci di rigore e oggi sarà molto molto colpito questo calciatore ed è 2 a 2 Cianoglo potentissimo segna il gol del 2 a 2 si va a supplementare una partita incredibile espulso Allegri dalla panchina che protesta per il rigore dato poi a Perisic al 97esimo minuto che veramente strabiliante perché prima segna e fa un gran gol sul calcio di rigore dopo 4 minuti ne fa un altro 2 a 4 per l'Inter che chiude la partita strabiliante di Marco a rimorchio l'Inter ha preso fiducia nelle gambe nella testa la Juventus spaccata in 2 perché comunque con i tanti errori torti subiti sempre ci sono stati ora rivedremo un po' tutte le immagini comunque i due gol subiti nei supplementari fanno male fanno male e clamorosa tensione espulsa Allegri espulsi la gente dello staff giocatori dalla panchina c'era più tensione sulla panchina che in campo devo dire la verità errore clamoroso forse non dare il calcio di rigore alla Juventus perderà intervento sublovic è successo veramente di tutto secondo me questo era calcio di rigore che si poteva assegnare tranquillamente alla Juventus che però non ha proprio giocato nei tempi supplementari la botta morale la potrebbe avere l'Inter che si può prendere lo scudetto perché ora sono in un momento incredibile di estasi ora alzano la coppa Inzaghi ora può gioire insieme al suo popolo Inter campione vinci la coppa Italia all'alza grazie a tutti